Inizia a prendere forma il nuovo Lanciano. La società frentana nelle ultime ore ha definito una maxi operazione con l'Atalanta, assicurandosi il difensore ventenne Andrea Conti, il centrocampista di 21 anni Davide Agazzi e l'attaccante anche lui ventunenne Leonardo Davide Gatto. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno a distanza di poche settimane dopo l'ottimo finale di stagione disputato l'anno scorso alla corte della squadra frentana. Mancano solo le firme ma i tre atleti possono considerarsi a tutti gli effetti neo-rossoneri. Conti, ritenuto uno dei giovani difensori più promettenti del panorama nazionale, è reduce da un'ottima stagione nel Perugia. A lui il compito di sostituire e far dimenticare Filippo De Colle. Agazzi, nonostante la giovane età, si è fatto apprezzare la passata stagione in Lega Pro nel Savona, mentre per Gatto, come si diceva, si tratta di un ritorno alla corte rossonera. Nello scorso torneo l'attaccante ha totalizzato 22 presenze e 4 reti realizzate tutte nelle ultime giornate di campionato. Restando alle operazioni in entrata, il direttore sportivo Luca Leone, sfumato di Ucarà, andato a Leeds in Inghilterra, punta all'ex attaccante della Juve Stabia Diop, giocatore di 21 anni, di proprietà del Torino. Sul veloce bomber africano si sono però riversate nelle ultime ore anche le attenzioni di Perugia e Cittadella. Per il centrocampo la Virtus ha messo gli occhi su Alessio Vita, ventenne centrocampista, di proprietà del Monza. Intanto ormai l'ex Rossonero Minotti si è accasato al crotone di Mister Drago. Ma la Virtus è ancora un cantiere, la società dovrebbe infatti definire nei prossimi giorni almeno 3-4 operazioni di mercato in entrata con l'obiettivo di mettere a disposizione del tecnico Roberto D'Aversa già una squadra quasi al completo per l'inizio del ritiro programmato per il 14 luglio in sede. Intanto nell'assemblea di ieri la Lega ha reso noto le date della nuova stagione. Il prossimo campionato di Serie B partirà sabato 30 agosto con il primo anticipo in notturna programmato per il 29. L'ultima giornata si giocherà venerdì 22 maggio. Da decidere ancora se confermare la lunga sosta invernale di un mese. Saranno 5 invece i turni infrasettimanali che dovrebbero disputarsi tutti in notturna. 23 settembre, 28 ottobre, 24 dicembre, 3 marzo e 28 aprile. La novità riguarda poi le gare in programma alla vigilia di Natale. Per la B sarebbe una prima assoluta.